Oggi siamo qui per parlare con il dottore Pagliaro di raccolta differenziata a Palermo. Lei, dottor Pagliaro, sostiene che nel capologo siciliano la raccolta differenziata sia cresciuta del 34% dal 2005 al 2012 e questo nonostante la maggior parte dei cittadini palermitani siano convinti che i rifiuti vadano a finire a bello lampo. Ma qual è la realtà, qual è la situazione? La verità è quella che viene comunicata dall'azienda pubblica di igiene ambientale al Ministero dell'Ambiente e al Consorzio che si occupa per via obbligatoria della raccolta di questi rifiuti. Effettivamente la raccolta differenziata a Palermo ha subito un significativo incremento di quasi il 35% in 7 anni che è stato largamente dovuto all'istituzione della raccolta porta a porta per circa 130 mila abitanti della città. Lei appunto parla di raccolta differenziata porta a porta, ma qual è il numero di cittadini raggiunti da questo servizio oggi a Palermo? Ad oggi i cittadini raggiunti sono circa 130 mila, però dal prossimo febbraio, quindi al giro di poco più di un mese, saranno altri 130 mila, quindi sostanzialmente sarà poi la metà della cittadinanza di Palermo e si è raggiunto da un servizio di raccolta differenziata obbligatorio porta a porta. Lei prevede che nel 2013 saranno raccolte diverse tonnellate di rifiuti differenziati, ma dove vanno a finire questi rifiuti differenziati? Vanno a finire cinque aziende che sostanzialmente partecipano alle asse che sono indette dal Conai in Sicilia come in tutta Italia. I comuni per non affrontare il mercato, quindi doversi cercare degli acquidenti per questi rifiuti che pure raccolgono, si affinano al consorzio obbligatorio, il consorzio nazionale imballaggio che organizza delle aste e poi proprio il Conai a vendere questi rifiuti e a rimunerare il comune che li raccoglie con una tariffa fisso e costante che in tempi di crisi non è poca cosa. E queste cinque aziende sono dislocate in tutta la Sicilia? Sostanzialmente quelle che sarebbero il comune di Palermo sono dislocate a Termini Medesi, a Palermo, a Marsala, prima d'Alcomo, quindi diciamo nella Sicilia occidentale. Differenziare i rifiuti non vuol dire soltanto risanare e proteggere l'ambiente, vuol dire anche abbattere i costi e risparmiare. Come possiamo abbattere le bollette che ci arrivano? Come fanno in tutta Italia, i comuni naturalmente guadagnano dalla vendita di questi rifiuti che vengono raccolti e avviati al riciclo. Per esempio il comune di Bologna consente uno sconto, una riduzione della tares fino a un massimo del 30% dell'importo dovuto dal cittadino attraverso una semplice misurazione dei kg che vengono conferiti dal cittadino nel corso dell'anno. Lì utilizzano sei cosiddette isole ecologiche, sarebbe semplicissimo farlo a Palermo. Io sono convinto che dopo questa fase di forte crisi, acuta crisi dovuta al passaggio Vallami, alla RAP, una serie di vicende di sofferenza economica, sicuramente il comune di Palermo abbasserà questa tassa proprio facendo leva sul risparmio generato dalla raccolta differenziale. Quindi ci potrebbero anche essere degli incentivi per il cittadino? Ci sono sicuramente. L'anno scorso, nel 2012, il Conai ha pagato ai comuni italiani più di 300 milioni di euro ricavati dalla vendita di questi rifiuti. I comuni introdiano questo denaro e quindi poi non sono costretti a doverlo chiedere ai cittadini. Per tutti questi motivi di cui abbiamo parlato, a partire da gennaio altri 130 mila abitanti saranno raggiunti dalla raccolta differenziata porta a porta. Quali sono i quartieri che saranno coinvolti a Palermo? Sostanzialmente tutto il centro storico di Palermo è una parte del quartiere Brancaccio, quindi la città avrà una continuità nella raccolta differenziata porta a porta e nell'eliminazione dei cassonetti che ne consegue, che andrà dall'inizio di Viale Strasburgo fino circa alla stazione centrale. Ci spiega come fanno i comuni siciliani che riciclano a farsi pagare le materie prime e seconde? In maniera semplicissima, misurano la quantità in chiogrammi dei rifiuti differenziati, la carta, il cartone, il vetro, la plastica e poi la conferiscono al Consorzio Nazionale, in questo caso il Consorzio per esempio la carta e il cartone al Consorzio Nazionale Imballaggi e poi il Conai a venderli. Naturalmente è un Consorzio che agisce a tutti gli effetti comuni e ente pubblico, poi dopo poco tempo remunera il Comune con la quota corrispondente. Al Sud rispetto al Nord la raccolta differenziata porta a porta è partita in ritardo. Qual è la differenza oggi tra il Nord e il Sud? È ancora così elevata? La differenza in termini quantitativi è ancora elevata in termini di percentuale, sostanzialmente il Sud si attesta a una percentuale complessiva che supera di poco il 20%, quando al Nord siamo a percentuali che superano il 50%. Però ci sono tutta una serie di comuni, anche grandi, dove la raccolta differenziata da porta a porta è stata implementata in poco più di un anno e sono passati da una percentuale di risoria a percentuali che superano il 60%. Un caso eclatante è la città di Salerno, dove l'anno scorso la raccolta differenziata nel 2012 ha superato il 63% per la precisione. Sono convinto che quest'anno supererà il 70%, ma dimostrazione che è perfettamente possibile farlo anche al Sud. Ci sono tanti casi di successo anche in Sicilia, qualche esempio, il Comune di Alcamo, il Comune di Collesano, il piccolo comune del Catanese Aci Bonaccorsi. Benissimi cittadini, non chiedono altro che averlo anche nel loro territorio per una riduzione significativa dell'impatto ambientale, ma anche dell'impatto visivo. Penso alla questione del turismo, se i cittadini camminano attraverso le bellezze storiche e i paesaggistiche della Sicilia senza vedere Cassonetti e il Comune di Mondizia, cosa ben diversa che dovendo ancora vedere nel 2014 Cassonetti, una raccolta non differenziata degli operatori ecologici. Quindi è una volontà del Comune essenzialmente? È una volontà fortissima del Comune, il Comune insiste moltissimo sull'importanza ovviamente dell'azione del sindaco, tanto più oggi eletto direttamente dei cittadini. Se i sindaci si attivano in poco tempo è possibile articolare sul loro territorio una raccolta differenziata porta a porta, che apporta grandi benefici che sono sì di ordine ambientale, ma che sono anche di ordine economico. e di ordine economico.